Si parla di Berlusconi che torna in campo e Alfano rimane segretario del partito, lui stesso ha escluso l'ipotesi di Ticket. Il problema è che tornando in campo Berlusconi ci sia accanto a lui e insieme a lui un partito democratico organizzato e radicato sul territorio che sia in grado di sostenere questa battaglia e di portarla avanti fino alle elezioni politiche. Da questo punto di vista sono due i soggetti, una funzione carismatica di Berlusconi e una funzione sul territorio del partito. La combinazione di questi due elementi, a avviso di molti di noi, è decisiva per un risultato positivo.